welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao laura ciao a tutti benvenuto pure tu benvenuti a tutti voi cari amici che siete qui in ascolto e state vedendo soprattutto il nostro video oggi ritorniamo con un artista che si chiama jungkook della serie bts quindi andiamo a fare l'ultima canzone che si chiama 3d insomma è uscita da pochissimo tempo e fra l'altro laura a parte parlare di jungkook che è un artista del 97 sud coreano e insomma conosciutissimo anche per i bts ma anche come solista perché insomma ha cantato anche tante volte solista come questa volta e in collaborazione con questa canzone con un altro artista americano e anche rapper quindi lo andiamo a vedere con jack arlov statunitense insomma e tu sai dalla sud della corea riusciamo sempre a far uscire sempre delle canzoni e belle e belle emozioni soprattutto quindi in questo caso andiamo a reagire a questo grande artista insomma vedremo un pochettino cosa ci darà che tipo di emozioni ci darà vi ricordo sempre siete su davide calte tv dove è un canale dove andiamo a fare reazioni mondiali quindi andiamo a reagire a tanti cantanti da tante parti del mondo e quindi oggi che la laura laura colombiana ovviamente io italiano quindi una mescola di due culture diverse per andare a reagire al meglio e quindi anche voi vedere una doppia reazione in un'unica sola in un'unica laura tu sai conosci bts conosci anche questo artista di qua e un cook e quindi cosa ti aspetti di questo artista laura davide come il solito loro sono esplosivi loro sono quelli che ti portano questa gioia questa felicità questa voglia della gioventù andiamo a vedere queste ragazze davide ma io direi proprio di sì quindi accendiamo micro il le cuffie si e andiamo ad ascoltarla e quindi Only time I can't reverse But when there's two dimensions There's only one I'm missing And if you feel alone You don't have to feel that no more I just wanna see you like that So is you ready? And if you let me I wanna see it in motion In 3D You won't regret me Champagne confetti I wanna see it in motion In 3D Cause you know I like it girl 3D You know I like it girl 3D Body to body to body to body to body You and me baby you know that we got it So don't go getting me started Cause you know I get high hearted Baby oh baby oh baby you're making me crazy Rain 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 you can't fake it You give me brand new emotion You got me drinking that potion I just wanna see you like that See you like that So if you're ready And if you let me I wanna see it in motion In 3D You won't regret me Champagne confetti I wanna see it in motion In 3D Cause you know I like it girl Cause you know I like it girl You know how I like it 3D You know how I like it 3D Cause you know I like it girl You know how I like it 3D You know I like it girl You know I like it girl 3D I'm on my junk hook Take a chick off one look And when they get took They don't ever get untucked When I seen that body you would think it was a dead body The way I told my boys come look I used to take girls up to Stony Brook And steal their hearts like some crook True story Now when I hold somebody's hand it's a new story All my ABGs get cute for me I had one girl Too boring Two girls It was cool for me Three girls Damn dude's horny Four girls Okay now you horny I'm loose I done put these strings to good use I done put my city on my back And the world know my name on the truth So if you're ready And if you love me I wanna see it in motion In 3D You won't regret me Champagne and Fetty I wanna see it in motion In 3D Wow Cause you know how I like it girl 3D You know how I like it girl 3D Cause you know how I like it girl You know how I like it Alright You know how I like it girl 3D I got you playing with yourself on camera You my bae just like Tampa Speaking of bucks I got those And as for fucks well not those And as for thoughts what do you really wanna know I thought so I fly you from Korea to Kentucky And you ain't gotta guarantee me nothing I just wanna see if I get lucky I just wanna meet you in the physical And see if you would touch me Good Wow Allora Parliamo un po' di questa canzone Questa è una canzone che a me mi da anche sempre anni 90 Sai quelle canzone che c'era il pop e nello stesso tempo anche il rap insieme inglesi Sì è una canzone classica per me bella da sentire in macchina Quando tu sei in macchina e sei sul traffico e poi ti fa arrabbiare il traffico Stando diciamo in fila incolonnato con la macchina vedi ascolti una canzone del genere Ti da grinta ti da forza ti fa pensare Dice va bene ok non mi devo arrabbiare perché c'è una bella canzone che mi sta facendo rilassare E si che ti da grinta insomma la sua voce di Guk è qualcosa di spettacolare si nota molto la differenza tra il coreano e l'inglese anche nel parlare Quindi voce molto dolce di Guk è voce molto più americanizzata quindi più dura e quindi insomma è un miscuglio e fatto bene Quindi questa partecipazione di questi due artisti uniti in questa canzone singola voglio dire è stata tanta bella cosa Anche bello il video, anche bello le ragazze che cantavano Insomma tutto curato nei minimi particolari ma non c'erano dubbi perché giustamente parliamo sempre degli artisti di altissima fascia Quindi primissima fascia mondiale quindi che dire mi è piaciuto Laura Bellissimo Davide un retro una musica che ti porta questa per noi no? Che noi siamo un pochettino più grande questa nostalgia Dell'80 dal 90 di questa musica così con questa forza e questa voglia di fare questo ballo no? Che era la cosa più importante da noi no? Fare questa stessa coreografia tu sai questo passo e l'altro Bellissima una fusione è stupenda da impazzire con una gioia una felicità una gioventù Ragazzi siete bravissimi John Cuth molto bello fantastico noi da qua dell'Italia ti inviamo tanta forza e tante salute e tanti abbracci Eh beh beh ne avrà da tutto il mondo perché è calcola che è amato veramente dall'intero pianeta Noi ci seguono in tanti ma loro giustamente sono ultra mega seguiti da tantissime persone Nel che dire ovviamente questa canzone l'abbiamo scelta per voi proprio per portare nel canale Sempre un po' di giovinezza nelle canzoni ultima uscita e quindi anche per tutte quelle persone Che ci seguono e magari sono un po' più giovani o no ma comunque sempre per toccare un po' la Corea Che amiamo tanto nel senso che arriviamo spesso in Corea e andiamo a prendere sempre I migliori artisti e portarli nel canale e questa è stata una bella una bella esperienza per noi Insomma riuscire a trovare insomma un po' di pace in questa canzone un po' di divertimento In questa mattinata che noi stiamo stiamo reagendo e questa canzone Beh direi che è perfetto Mi domando ma i BTS dove sono per adesso? Per adesso si sono presi una pausa perché non ho visto più nessuna nuova uscita Quindi non so se le loro partizioni Le commenti magari speriamo Sicuramente le commenti voi cari amici potete aiutarci scrivendole giustamente E domandandoci qualsiasi cosa e magari rispondendo anche le nostre domande Ma questo è casa vostra quindi potete fare quello che volete e quando volete Siete sempre ospiti nel nostro canale Davide Calti TV Laura per oggi diciamo che abbiamo chiuso questo capitolo Che questo capitolo ne apriremo tanti altri ovviamente Quindi invitiamo tutti gli amici che sono in ascolto che ci stanno vedendo A iscriversi al canale Attivare la campanella delle notifiche Commentare come abbiamo detto E mettere tanti 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 like Per far progredire questo video E far arrivare in tante parti nel mondo dove noi già siamo seguiti E niente noi non ci fermeremo qui E continueremo ancora a cercare altri artisti Della Corea del Sud Insomma cercheremo e troveremo di sicuro qualcosa da rifare Da portare nuovamente Quindi comunque voi nei commenti scriveteci qualche altra canzone Che volete che noi andiamo a reagire Grazie per essere stati con noi Grazie Laura Ciao Davide Un abbraccio a tutti Un bacio Ciao amici miei Ciao 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 Ciao